Un finale da applausi. La Standing Ovation è per il campionato italiano WRC, che ancora una volta torna a Como per chiudere il sipario di una stagione entusiasmante. E il palcoscenico è sempre d'eccezione, quello offerto dalla 37esima edizione del trofeo AC Como, gara che si distingue ormai da tempo per le spettacolari PS e un format di successo, apprezzato da piloti e soprattutto dal pubblico. Un rally che mette in palio punti decisivi anche in virtù del coefficiente maggiorato 1,5 e porta alla ribalta ben 138 equipaggi distribuiti tra trofeo maggiore, rally nazionale e storico. Risultato positivo che gratifica il lavoro svolto negli anni dall'organizzazione firmata Automobile Club di Como. Una grande omissione perché lo sforzo organizzativo è sempre molto importante. Essere l'ultima gara, essere quella decisiva non solo per l'assoluto ma anche per tante classi, credo che sia la cosa migliore che un organizzatore possa permettersi. Quest'anno tutti gli occhi sono puntati sulla sfida scudetto delle CIVRC. Sono in tre gli equipaggi a caccia del tricolore a partire dai campioni in carica Stefano Albertini e Danilo Fappani. Il tandem bresciano arriva nella cittadina lombarda ancora da leader di classifica ma diversamente dalla passata stagione deve guadagnarsi qui la vittoria in campionato. Partendo da quota 67 punti con tre vittorie all'attivo, al pilota su Ford Fiesta WRC di Tamauto basta un secondo posto per fare il bis. La conquista del secondo titolo è faccenda sicuramente più complicata per Manuel Sossella e Gabriele Falzone, secondi nell'assoluta con 50 punti. La coppia vincitrice del campionato 2015 deve riuscire a mettere almeno una macchina tra la sua Fiesta WRC della Pia Racing e quella di Albertini. Una vittoria del Vicentino varrebbe il titolo per 0,5 punti di vantaggio soltanto con il bresciano al terzo posto. Margine di manovra minimo invece per Corrado Fontana e Nicola Arena, terzi in classifica a quota 46 punti. Il driver di casa su Hyundai i20 VRC di HMI può pensare di festeggiare lo scudetto nella sua Como soltanto con il primo successo nelle CI VRC e Albertini fuori dai primi quattro posti. Fontana è il recordman del triangolo lariano con ben 19 start e 9 vittorie prima di questo trofeo a Cicomo. Lo spettacolo è quindi assicurato, come conferma l'elenco iscritti, arricchito da ben 12 vetture VRC. Grande attesa nell'Ecomasco anche per l'altro pilota lariano, Paolo Porro, immancabile con la sua Ford Fiesta VRC in coppia con Paolo Carnilutti. Intenzionati a mettersi in mostra anche gli altri protagonisti della stagione, come Simone Miele con Lisa Bollito su DS3 VRC, il bresciano Pedro con Emanuele Baldaccini e dell'altro padrone di casa Luigi Fontana con Roberto Mometti, entrambi su i20 VRC, quindi dello svizzero Lorenzo della Casa con Luca Beltrame su Fiesta VRC. Ma il trofeo a Cicomo ha richiamato come sempre l'attenzione di altri grandi driver del rally italiano, pronti ad inserirsi da outsider nella lotta al vertice. Tra gli iscritti, infatti, spicca il nome del romano Max Rendina sulla Skoda Fabia R5 firmata Motorsport Italia. Rispondono alla chiamata i comaschi Felice Re su Ford Fiesta VRC e Kevin Gilardoni su i20 VRC, oltre all'elvetico Mirko Puricelli su DS3 VRC, a completare la schiera di VRC in partenza. Avvincente anche la sfida di classe R5, grazie al duello tra il rientrante Veneto Antonio Forato e il sipontino Domenico Erbetta, entrambi al volante della Skoda Fabia. Anche tra le R5 si fanno notare i nomi di diversi piloti non iscritti al campionato italiano VRC, ma pronti a dare battaglia, come il brasiliano Paolo Nobre, l'altro pilota di casa Alessandro Re e il toscano Federico Santini, tutti alla guida di Skoda Fabia. Da segnalare anche le Super 2000 con il leader trentino Matteo Dapra su Fabia e il ceccanese Stefano Liburdi alla guida di 207. Ultima chiamata anche per la classe R2B con i bresciani Gianluca Sarisera e Simone Niboli, tutti e due su Peugeot 208. Gara decisiva anche per decretare il vincitore della Suzuki Rally Cup. L'undicesima edizione del monomarca vede ancora in lotta per il primato, l'aostano Corrado Peloso e il trentino Roberto Pellè. Tra gli altri protagonisti anche il padovano Nicola Schileo e il ligure Mauro Cornero, entrambi in corsa per il campionato italiano VRC, che fanno parte del folto gruppo di 11 Suzuki Swift R1B allo start. Il meteo è dei migliori, il pubblico altrettanto, e il rally parte da Piazza Cavour per affrontare le nove prove speciali suddivise su due giornate di gara. La prima, quella di venerdì, vede subito grande protagonista il padrone di casa Corrado Fontana, che prova subito a dettare il passo alle World Rally Car. Alle sue spalle Stefano Albertini mantiene la parola e la posizione, rimanendo sempre agganciato all'Ariano. Chi perde terreno è invece il terzo sfidante per il titolo. Manuel Sossella, infatti, viene subito limitato da problemi meccanici alla sua Fiesta VRC, con il turbo che gli fa perdere 20 secondi già nel primo tratto cronometrato. Altri 20 secondi gli vengono inflitti con una penalità, così il Vicentino, pronti via, si ritrova a trascinare con sé una zavorra di ben 40 secondi in appena 5 chilometri di gara. Un parziale tremendo che, di fatto, lo taglia fuori dalla corsa alla vittoria. Stessa sorte, pochi chilometri più avanti, per l'idolo locale Paolo Porro, che incappa nell'ennesimo infortunio di una stagione stregata, quando negli ultimi tornanti della Ghisallo la sua Fiesta VRC ha problemi al turbo, costringendolo definitivamente nelle retrovie. Prova quindi la fuga Corrado Fontana, che non si guarda indietro e scappa in testa, aggiudicandosi tutte le quattro prove speciali, rientrando al parco notturno in pieno controllo della gara. Dietro di lui, di circa 5 secondi, il leader di campionato Albertini, che inizia a fare calcoli e, vista la debacle di Sossella, si mantiene in scia senza rischi. Ora gli basta un quarto posto per centrare il titolo, così Albertini alza il piede dell'acceleratore e si gusta al finale. Chi ne approfitta è l'outsider del CIR Kevin Gilardoni. Il pilota di Gravedona riparte alla carica al sabato nelle sue speciali e, a pochi metri da casa, si esalta sulla lunga Valcavarnia, imponendosi definitivamente al secondo posto assoluto. Un successo che gratifica il Comasco subito a suo agio tra i big delle World Rally Car italiane. Una gara in vista del podio, invece, per Simone Miele, che chiude al quarto posto assoluto, conquistato con un colpo di coda all'ultima speciale a scapito di Alessandro Re, comunque quinto e autore di un'ottima prestazione. La top 10 si completa con il duello di classe R5, dove a spuntarla è Antonio Forato, con un nono posto assoluto che vale la vittoria della Coppa AC Sport R5. I tornanti comaschi decidono anche le sorti delle trofeo monomarca Trofeo Renault Clio R3 Open, vinto dal veronese Federico Bottoni, mentre sulle fronte giapponese della Suzuki Rally Cup è l'aostano Corrado Peloso a spuntarla di nuovo, assicurandosi il monomarca della casa di Yamamatsu. Un finale che conferma anche i massimi vertici del campionato italiano WRC. Dopo una cavalcata lunga oltre 400 chilometri e sei prove speciali conquistate, Corrado Fontana e Nicola Rena segnano ancora l'albo d'oro del trofeo AC Como con il settimo sigillo da record, vincendo finalmente la prima gara nel campionato italiano WRC. Beh vale tanto perché per un motivo o per l'altro quest'anno non siamo mai riusciti a salire sul gradino più alto del podio e devo dire che abbiamo fatto una stagione bellissima, noi tre diciamo che abbiamo sempre battagliato e forse io ero l'unico che non aveva ancora provato diciamo la soddisfazione di salire appunto sul gradino più alto e farlo in casa dai ci tenevamo molto perché era un po' di tempo che non si vinceva, un po' di tempo che mancava un comasco nell'albo d'oro di questa gara quindi era la mia settima vittoria e sono molto contento. La gloria è tutta per Stefano Albertini e Danilo Fappani con un terzo posto che vale il titolo 2018. Hanno vinto quando dovevano vincere e amministrato quando serviva. Un primato costruito a colpi di talento. Alla fine dei conti l'equipaggio bresciano festeggia ancora con merito la vittoria del campionato italiano WRC, un bis tricolore senza precedenti. È stata una gara difficile per noi perché comunque correre con il pensiero di dover arrivare per forza e col discorso poi del coefficiente che c'era qua per l'ultima gara ci ha messo un po' di pressione però siamo stati secondo me bravi a gestire un po' la situazione e complimenti a tutti i nostri avversari che hanno fatto secondo me un grande campionato, una bella stagione. Ecco, la gioia, la gioia degli equipaggi sul podio! Lo spumante! Grazie! Grazie! Grazie!